salve polletti questo è electricpeo se siete qui probabilmente siete capitati in questo canale perché attirati dalle incredibili capacità nel disegnare del sottoscritto e nel fare grafiche per youtuber simpaticissimi come charlie moon in questo caso in cui faremo almeno in questo video faremo un disegno per le sue magliette che probabilmente smercerà a destra e sinistra durante le prossime fiere quindi cercheremo di fare un disegno davvero pro davvero una bestia di disegno paura che possa adicere a tutti i fans a tutti i lupetti di charlie moon quindi faremo il disegno di jawi il suo lupetto preferito la sua mascotte diciamo pucciosa e simpaticissima con la scritta jawi e l'hashtag sotto la scritta iniziamo con lo schizzo molto veloce godetevi la musica siete sul radio peo la radio numero uno in italia frequenza 107,75 periodico questo è quanto ora si passa all'inchiostrazione come vedete ogni tanto lascio dei pezzi in cui la velocità del video non è accelerata per farvi capire comunque sia che il lavoro richiede un po di tempo comunque sia io sono relativamente pignolo soprattutto quando si tratta di chiostrazione e colorazione vi rilascio alla musica di radio peo frequenza 177,95.007 musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e ora è il colore in cui faremo una composizione basata un po' sull'azzurro visto che comunque sia il colore di Charlie, delle orecchie di Jawi che è il colore più acceso quindi il bianco non sarà completamente bianco ma ci avrà sempre una tonalità sull'azzurro e dietro metteremo una luce calda per giustificare insomma tutto questo azzurro perché dove vi è una luce calda vi è un'ombra fredda quindi dietro luce calda e di fronte luce fredda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti